Musica Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo episodio di Mondi Cubi Allora ragazzi cominciamo subito pigliandoci della terra che ci serve per andare a lavorare nella nostra pianura Adesso vi spiegherò anche perchè Allora prima di cominciare questo video però voglio dirvi una cosa Sono le 11-20 e comincio a registrare questo video che deve uscire entro domani Se io riesco, cioè se voi riuscite a vedere questo video entro domani che dovrebbe essere il 14 se non sbaglio Dovete bombardarlo di mi piace perchè vuol dire che sono riuscito appunto da adesso fino a domani No che domani entro due ore sono riuscito a finire di registrare a renderizzarlo e a far tutto A montarlo, a caricarlo, a far tutto Comunque qua, indovinate un po' non si carica niente Grazie Minecraft, ok E... ah qua ho già tagliato degli alberi e continuerò infatti ormai sono ferre for tagliaboschi Sì sì, sono ferre for dettagliaboschi perchè guardate qua sto buttando giù mezza foresta africana E non... e non cade... cioè non... diciamo che non riesco a fare dei grandi progressi Perchè veramente buttare giù una foresta intera è veramente difficile Comunque qua ricordatemi il giorno che magari mi servirà che c'è della sabbia La verrò a prendere E... e... e cos'altro? Qua appunto tagliamo tutto Perchè non voglio raghetti rompi palle Ok Quindi chiudiamo tutto quanto Perfetto E avremo più spazio per costruire Allora E... parliamo un secondo di cosa fare in questo video Allora ragazzi E... la casa che voglio fare Verrà epica E ve lo dico Infatti tra poco vi farò vedere la lobby O meglio Diciamo l'ingresso della casa che ho finito In creativa Ed è venuta una cosa Pfff... epica al dir poco E... no davvero Forse è una delle migliori decorazioni che abbia mai fatto E non lo dico tanto per tirarmela E... e niente appunto Tra poco ve la farò vedere Finisco giusto di tappare tutto questo laghetto Non so se farò dei tagli Perchè... e... Oddio Laggata assurda come al solito Non so se farò dei tagli Perchè... e... Appunto il tempo è quello che è Come ho detto poco fa E il video voi lo volete A tutti i costi E quindi appunto Magari lo farò un po' più corto anche Però voglio giusto farvi vedere un paio di cose Comunque stavo dicendo che Per la casa Visto che sarà molto epica Ho bisogno di andare nel nether Perchè mi serve quarzo E soprattutto mi servono i portali Devo... devo creare il portale In un punto preciso Prima di cominciare a costruire la casa Infatti devo creare il portale Sotto e sopra l'acquario del golem Poi vi spiegherò anche perchè Comunque due stacche e mezzo di terra Non sono bastati Pazienza E... direi che Il ferro e fuori del tagliaboschi Per oggi finisce qua Ha lavorato abbastanza Ed è pure un tagliaboschi sottopagato Quindi direi di lasciarlo stare Poverino E... uh qua c'è il carbone Lo piglio? No non lo piglio Lo pigliamo poi dopo E... niente ragazzi Quindi direi che Adesso andiamo a un secondo Modellità creativa Così vi faccio vedere tutto quanto Allora E voilà Eccoci qua No dove... Voilà si una libreria Yeso poi vi spiegherò perchè C'è una libreria qua Comunque ragazzi Questa roba immensa E... L'ingresso di casa mia E... Proviamo a entrare E... Voilà Si Ehm Può sembrare costosissimo E lo è Lo è Però calcoliamo che la clay E' come se fosse Della cobblestone per noi ormai E... E il quarzo appunto E' tanto Però lo userò tanto Soltanto in questa lobby Spero Questa lobby Si la chiamo lobby Perchè sembra Sembra lobby E' quello che sembra Poi ci sarà Il piano superiore Praticamente questa qua E' il piano superiore L'inizio E noi Scendendo giù dal piano superiore Potremmo scegliere Se cadere qua Farci un po' male Però adesso è già il primo Cosa che non farò molto spesso Oppure Andare dal Secondo Direttamente Al sottoterra Che è questo qua Cioè sotto L'acquario del golem Qua il golem non passa Perchè E' 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 Non perchè è testa in giù Scusate Perchè è Grande due blocchi E qua sopra c'è un altro Allora adesso vi spiego Perchè qua ci sono Dei portali fatti così Allora Prima creerò questo E lo creerò Logicamente Solo quando avrò finito Tutti i piani Che ci sono in mezzo Quindi anche qua Dovemmo aspettare Ancora un pochettino Andare avanti Con la progettazione E comunque Io appunto Creerò prima Questi portali qua E li attiverò Entrerò qua dentro E uscirò E rimarrò Qua praticamente Ehm Però Diciamo che Questa zona Rimarrà la zona Per il primo portale Quindi questi quattro portali Saranno i portali Da cui io uscirò Tutte le volte Quando Appunto Tornerò dal nether Quando io tornerò Qui sarò in questa isola volante Non dovrò volare Sarò direttamente Qua E da qua Cosa potrò fare Potrò Scendere Potrò buttarmi Giù E Finire direttamente Qua nell'acquario Qua nell'acquario posso Scegliere se Appunto Risalire Oppure se scendere Di nuovo giù E andare Nel nether Appunto Questa qua appunto Sarà la via di andata E quella sopra Sarà la via del ritorno Si spawnano gli squid Che li tengono in compagnia Dai Te lo ammazzo Va bene Già lo spazio che hai Non è molto Povero Iron golem Dobbiamo trovare un nome A questo golem L'ho deciso che Lo chiamerò Polifemo Non so perché Mi piace Mi piace il nome Polifemo Veramente 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 Molto Molto Quarzo E quindi Come faccio a ottenere Molto 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 Quarzo Devo Andare nel nether E raccoglierlo Però per ottenerne di più Devo Avere un piccone con fortuna Che mi fa avere più Quarzo Quindi Per avere un piccone con fortuna Devo avere Almeno Mi sembra 30 livelli Cioè Devo avere comunque Un metodo di enchant Che mi permetta di avere Tutti quante librerie Nonostante Io avessi fatto Dei test off camera E adesso Lo andremo anche a rivedere Non capisco perché Oddio sto muovendo di fame Ecco perché non riesco a correre Non capisco perché Le librerie che ho fatto Non bastano Adesso andiamo anche a vedere Le andiamo a contare Però io proprio non capisco Mi sembra molto Molto strano Ho fatto anche I vari controlli Se le ho messe tutte Eccetera eccetera Ma Non ci sono dei problemi Sembra che le librerie Le ho messe tutte Adesso andiamo un attimino Qui E vediamo Allora 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 Questo È quanto Allora di qua Partono le letterine Sì Partono di qua Partono Di qua pure 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 Le letterine Sembra che partino tutte Però arriva solo a 16 livelli E vi ricordo Guardate Contiamo un secondo Le librerie Sono Oddio se riesco a saltare Una Due Tre Quattro Cinque Sei E sette Per due livelli Quattordici Ok Adesso andiamo In creativa Vi faccio vedere che Anche togliendole Così Nel modo giusto Nel modo giusto Io Ottengo Spicola spada Da incantare Ok Ah ce l'avevo già Comunque Ottengo 28 livelli Non Non 16 Io non capisco Perché sta cosa Forse sono dei blocchi qua Che bloccano Dei blocchi che bloccano Vediamo un po' Può essere No Neanche questo Ho pensato Potrebbe essere Che magari qua Ne manca una Di libreria Però anche se Ho controllato Anche se ho Controllato No 26 Comunque 16 Non si capisce Perché Forse perché Devo avere Devo salire Un po' di livello Io Direi che adesso Faccio un bel affare Allora ragazzi Se sto continuando A cambiare mondo Lo so Perché comunque Voglio farvi vedere Anche io Cosa ho elaborato Nella mia testolina Off camera Allora direi che Facciamo una bel affare Posiamo Questa roba qua Che non ci serve Anche sta roba Qui Ok Poi Questi qua li teniamo E li andiamo poi A portare a casa Star out Si star out Come ho detto Non lo so Comunque star out Un pochettino qua A Farmare A farmare XP Quindi Mi chiudo qua Che figata è Lol Comunque Non posso Pezzare Salve Posso Posarlo Il blocco Almeno Ok Very good Ok ragazzi Starò qua per un po' E quindi faccio Un piccolo stacco Ci vediamo tra poco Ok ragazzi Ed eccoci Mentre aspettiamo Faccio i saluti di oggi Che sono per Roberto Russo Zio Andrez E Alex Papir Si Papir Ok Pensavo di aver letto sbagliato Ormai ho l'ossessione Di leggere sbagliate Le cose Ok Quindi Ho fatto giusto Questa piccola Questo piccolo stacco E appunto Ricomincio a farmare Ok ragazzi Eccoci Sono Oddio Nendermen Sono andato a dormire Perché Era tardi E Adesso Sono tornato In questa bellissima farm Per Vedere Un attivino Come vedete qua Ho 24 livelli Ho farmato un pochettino Durante il giorno E adesso vedrò Se cambia qualcosa No non cambia Assolutamente Niente Indostruttibilità Bene Perché l'ho fatto Non lo so Però Mi andava ad incantare Allora Posiamo Un paio di cosette Allora La pala Ce la teniamo Perfetto Qua c'è un troppo Dei pantaloni Frecce Frecce Ossa Arco Si Direi che ho Messo tutto quanto posto E niente ragazzi Quindi Penso che L'unica soluzione Che ho appunto E' quella di aggiungere Librerie Ed è un lavoro Che sicuramente Dovevo fare Off camera Comunque Mi avete detto Nei commenti Che ho appena Ricontrollato Di fare delle modifiche A Oddio Dove siamo Aspettate T slash Time Set Zero Ok Mi avete detto Di fare una piccola modifica Qui Allora Vediamo un attimino Mi serve una spada Per di tutto Ok Mi avete detto Primo Via Muori Via Muori Via Via Muori Ok Caro golem Non sarai più solo Perché mi avete detto Che il golem sta meglio A testa in su Ma io il golem Lo voglio a testa in giù Voglio a testa in su E allora ne facciamo due Vediamo come stanno in due E prendiamo anche Del vetro normale Perché mi avete detto Di usare il vetro Normale O quello più chiaro Ma quello più chiaro Sinceramente Non mi piaceva Molto Sto per dire Me piasa Si L'ho notato Comunque Non mi piaceva molto E quindi pazienza Non utilizzeremo quello Comunque Tacchete Trick Che Cosa sto facendo Non lo so Comunque Così Così E così Ok Abbiamo qua ragazzi La coppia perfetta Eh Si Questo è amore Eh si Comunque Provo nel frattempo A fare Quello che mi avete detto voi Ok Comunque Il video non penso Che durerà più molto Ragazzi Perché se lo volete Come Sono solito fare Uno al giorno Dovremmo muoverci Non c'è altra solution Ok Questo è quello che volevate voi Non mi sembra Che si veda molto meglio Anzi Queste estriature Lo fanno Apparire molto Molto peggiore Proviamo con un vetro Più chiaro Come avete consigliato voi Quindi Vetro Possiamo provare L'azzurro O il ciano Beh proviamo anche il ciano Che non l'avevamo provato Proviamo a fare Oddio mio Ho portato via Mezza stanza Va bene Beh nessuno Se ne accorgeva mai Tranne voi Lo so Comunque Potrebbe essere Un ciano Si Guardate qua Che danno Che sono Ragazzi Comunque Tacchete 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 Ok Questo è il risultato Meglio così O così A me Continua A piacere Di più Il blu Però Anche il ciano Direi che Riproviamo con l'azzurro Dai Azzurro Azzurro No Cosa ho fatto Via Ok Allora Vediamo un attimino Tacch Tacch Tacchete Tacch Mamma mia Che danno Tacch E Tacch Ok Vabbè anche di qua Già che ci siamo Incredibile Ferra che riesce a cambiare Il vetro Senza Ciano O Cialatano Ciano O Cialatano Azzurro Forse il ciano Ciano o Blu Ma soprattutto Blu O azzurro Questo è il dilemma Qua li possiamo vedere Benissimo Entrambi Di qua Mi sa che Vince ancora Il blu Di qua Invece Forse Vince il ciano No Veramente Il vetro Classico Mi fa troppo Schifo Con ste Streature Ragazzi Vi chiedo Scusa Ma Veramente Non mi piace Neanche un po Potrebbe Vince Il ciano Sì Ma al massimo Lo possiamo cambiare Il vetro Pazienza Non è quello L'importante Prima vediamo Di crearlo Normale Come deve essere Creato Comunque deve essere Fighissimo Avere Un acquara Con due golem Dai Lo voglio Lo voglio Comunque Direi che Torniamo Di là E Adesso Anche se Pensavo che Non dove Non Quello Lavoro fosse Finito Mi devo Rimettere A farmare Pelle Oddio Pelle Che palle Che palle Farmare Pelle Ecco Comunque Quindi Mi allenerò Un pochettino Con lo sport Nazionale Di ribalta La mucca Mi avete fatto notare Che ho chiamato Un episodio Ribalta La mucca E un altro Praticamente L'ho Ribaltato Il golem Ribalto Sempre tutto Lo so Sono come Dinnerbone Lo so Comunque Andiamo di qua Anzi Come Dinnerbone Perché Per chi di voi Non lo sa Dinnerbone È famoso Perché ribalta Sempre tutto Infatti C'è l'effetto Dean Aspettate Oh mio dio Ragazzi Oh my god Eh sì Ho fumato Qualcosa Di pesante Oh yeah Mamma mia No ragazzi Fantastico Oddio No no Questo qui Mi fa venire Le crisi epilettiche Questo È una figata Anche Oddio Ciao Mucche Non ci pensavo Più Che avevano Aggiunto Anche questa Cosa Guardate i colori Così Forse Non si capisce Molto Ma I colori Sono molto Molto Più Accesi Non so Come farlo Forse La zucca Si la zucca Si nota Abbastanza Guardate Quanto è accesa Questa zucca Sembra Non lo so Wow Very very good Che figata Comunque Proviamo ancora un altro Oh yeah 3d Ancora Ecco Questo qui È l'effetto Dinnerbone Ragazzi Non riesco A giocare No 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 Ecco Proviamo a ribaltare La mucca Dove sono le mucca Non riesco a capire Dove sto andando Dove sto andando Ragazzi Oddio È impossibile Giocare così Aiuto Vi faccio Uno screenshot Oddio Non ce la farò mai Fare lo screenshot Dove è che sto andando Non riesco a capire niente Oddio Allora Questo che cos'è Allora Però almeno così Capisco dove sto andando Guardate che figata La torcia blu Questo che No Sto guarda bruttissimo Ah questo è già più carino Questo Oddio LSD LSD ragazzi Mi sento tipo flash Guardate Ok basta Sto impazzendo Lo so Ok questo qui è tipo Un cartone Un film Ok Oggi ragazzi Ci troviamo qua Tutti riuniti Per vedere la puntata Di ribaltare la mucca Ok basta Questo Questo è strano Ma ha un suo fascino Questo No sto qua mi fa schifo Questo Ok questo si Questo si Sì ragazzi Yes Questo ci sta un casino Ed è giusto Per ribaltare le mucche Però mi serve del grano Andiamo a prendere il grano 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 Dove sei? Dove è il grano? Grano E andiamo a far Riprodurre le mucche Perfetto Uno lo butto lì Poi vi spiegherò perché E gli altri lì Investo tutti quanti qua Guardate i cuoricini Che belli Oddio Sembra tipo Un film d'amore Per le mucche Ok Adesso basta Dire cavolate E andiamo a uccidere Comunque ragazzi Direi che per questo Vi è tutto E vi ho fatto vedere La lobby Anzi ci faccio pure Uno screenshot Quindi Dove 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 Oddio Non riuscivo manco a leggere Facciamo Wow No con questo effetto Deve essere troppo figo Facciamo Una foto Uno screenshot Così The best The best lobby Aspettate Così Sì Perfetto Aspettate che devo scattare Lo screenshot E voilà Perfetto Così mi piace veramente tanto Comunque ragazzi Direi che davvero Per questo video è tutto Altrimenti non ce lo farò mai Farlo uscire Davvero se riuscite a vederlo Ok ragazzi Scusate l'interruzione Logicamente C'è sempre un programma Che non funziona Qualcosa che non va Comunque adesso ribalterò Le mucche Sì Eh lo so Sono scene pesanti Per chi non ha Un buono stomaco Vi levate Via Oddio l'ho sparata via Con la mucca piccola L'ho sparata Letteralmente l'ho sparata via Sì Allora via Muori 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 Oddio Che bello ribaltare le mucche Wow Ribaltare le mucche Ok basta ragazzi Quindi io come al solito vi ringrazio Vi invito a lasciare un like Perché Come avete detto voi Youtube è stronzo E come avete detto voi Perché ho scritto un post Sulla pagina facebook Beh chi ha voglia di andarselo a leggere Andrà a leggerselo E capirà Si farà due risate E E niente Quindi io vi ringrazio Con questo effetto Very sexy Vi faccio vedere ancora uno Ah questo qua è molto meglio Sì sì Oddio Questo Non si capisce niente Sembramo ciechi Questo Ok Questo è giusto Per chiudere l'episodio Oh ma Ah ah Voi non vi trasformate E come sarebbe Questa storia Che voi non vi trasformate Lo farò presente Nel mio avvocato Ok ragazzi Quindi dalla cassa blu Verde rossa Gialla Arancione Tutti colori Camaleonte Non lo so È tutto Io vi saluto Vi ringrazio Spero che il video vi sia piaciuto Come al solito E Appunto Vi invito a lasciare un like Eccetera eccetera Spero Che Appunto questo video Riuscirò a caricarlo Ma penso Vapesi Oddio Mi stanno partendo gli occhi Ragazzi No Questo qua ci sta un casino Questo è bello Questo è bello veramente Ancora uno E poi basta Ok questo qua Penso che ormai Sia La normalità Sì ok ragazzi Basta io vi saluto E vi do appuntamento Al prossimo video Ciao a tutti